ecco bella a tutti ragazzi e bentornati in un altro canale io sono francesco e insieme a francesco ci sono io leonardo guida oggi però gioco io eh non leonardo come oggi vedete vabbè mo ho iniziato clash of clans quindi allora chiedetegli l'amicizia ecco il suo tag si chiama totti francesco totti allora raga voglio ecco ecco ragazzi ragazzi scusate andiamo sul secondo villaggio per vedere ah no giusto non posso andare perché devo fare eh leo come faccio a fare eh leo come faccio a farmi il municipio esco da questo clenno e come me lo faccio a fare come me lo faccio a fare prendi degli sir fa bene li vedo te ok e fa il quale non fa niente allora come ti chiami totti